bravo papà sono arrivato in ritardo perché sono andato a cercare il couscous quello che state mangiando e io ci tenevo io sono scelto italiano ma sono anche profondamente africano in quel senso della condivisione dell'offrire il cibo e per questo ho fatto di tutto e sono andato fino a Ciliselo Barsamo grazie è il couscous è lì che ci saranno mangiando buonissimo il mio programma è perché mi candido è semplice per cacciare via questa giunta la giunta di Formigoni che è qua da 17 anni questo è il mio programma io mi candido per votare contro io mi candido per votare contro soprattutto la Lega bravo bravo Ambrosoli ma non ha grinta scusatemi sono stronzato ragazzi noi dobbiamo andare a votare non solo dobbiamo andare a votare ma dobbiamo anche portare la gente non solo dobbiamo andare a votare andare a votare è il nostro programma principale perché qui si torna la Lega noi abbiamo stata la Lega che ha governato l'Italia la Lega è andata al governo di Roma la Lega ha governato con Berlusconi noi non avevamo mai